Musica Amiche e amici di Rossini TV, benvenuti a una nuova puntata di Casa Rossini. Siamo anche oggi a presentarvi un ospite, a farvi conoscere un personaggio della nostra città. Oggi ci ha raggiunto ed è qui con noi Gianluigi Falcone. Buongiorno Gianluigi. Buongiorno. Allora Gianluigi Falcone è qui con noi ma sicuramente qualcuno dei nostri telespettatori già riconosce il cognome e riconosce anche qualche inquadratura perché la pubblicità della sua attività va in onda già da qualche settimana su Rossini TV. e però abbiamo voluto invitarlo per conoscerlo un po' meglio, per farci raccontare un po' meglio di questa sua attività. L'attività è l'ortopedia Falcone. Ho preso qualche appunto col quale ti introduco un po' da tre anni e mezzo a Pesaro, giusto? Sì, giusto tre anni e mezzo più o meno. La nostra attività principalmente è partita da Pesaro in Piazza Redi. è un'ortopedia sanitaria e rispetto alle altre ortopedie sanitarie della zona ci differenziamo per il laboratorio interno che abbiamo, un laboratorio che si basa soprattutto sulla produzione di ausili, ortesi, tutori e protesi su misura. Ecco, spieghiamo bene. Di solito voi quando andate in qualche negozio di ortopedia avete tutta una gamma molto ampia di ausili e di tutto quello che serve che sono lì perché qualcuno li ha prodotti e il negozio li vende. Nel caso invece di Gianluigi Falcone e della sua attività, la produzione è vostra? Sì, abbiamo la classica sanitaria che è quello che hai appena descritto, cioè la vendita da banco, tra virgolette, del bustino, della ginocchiera, della cavigliera che può essere per l'anziano, per il disabile, per lo sportivo. In più noi abbiamo la parte di laboratorio dove per esempio andiamo a produrre i plantari su misura, i plantari su calco, i plantari su CADCAM, i plantari semilavorati, i tutori per arti inferiori, sono tutori che consentono ai disabili magari tante volte a camminare meglio oppure in alcuni casi anche a reggersi in piedi. Vengono prodotti in carbonio, vengono prodotti in materiale plastico, vengono prodotti alcuni, vecchio stampo, tra virgolette, in acciaio per i cosiddetti poliomelitici che per fortuna ormai sono rimasti in pochi. Produciamo anche busti su misura per le squaliosi, quelle sono la maggior parte in materiale plastificato, in polietilene, tutori per arti superiori e anche le protesi. Ci basiamo sempre sulla misura specializzando la produzione da casa a caso. ogni caso è fino a se stesso, non c'è mai una copia, tra virgolette. Diciamocelo sinceramente, è chiaro che sono argomenti dei quali ognuno di noi vorrebbe poter stare tutta la vita alla larga. Uno dice per carità, tutti in questo momento, tutti quelli che hanno la fortuna di non avere questo tipo di esigenza stanno pensando, io però, cliente di Gianluigi, simpatico, l'abbiamo già visto, questo bel sorriso, tutto simpatico, però cliente magari no, a prendere una. Per le cose meno gravi ci sono i plantari. In realtà sono situazioni che non sono poi così lontane da una quotidianità fatta anche di normalità. Ci sono cose molto semplici, un plantare potrebbe veramente in certi casi aiutarci a risolvere un problema pratico banale. Per gli sportivi sicuramente è un ausilio, ma soprattutto quello che io volevo sottolineare è che è importante sapere che esistono queste realtà, perché poi sul momento, quando in realtà si arriva all'esigenza, avere già in testa l'idea di dove andare aiuta a risolvere il problema sull'immediato, perché quando si ha poi un problema reale, in quel momento meno preoccupazioni aggiuntive abbiamo, tipo adesso da chi vado, cosa faccio, come mi organizzo, e meglio è. E allora il motivo per cui noi abbiamo piacere di raccontarvi questa realtà che esiste nella nostra città, e poi lo diremo fra un attimo anche nella città di Fano, è perché intanto questa informazione mettetela lì, perché poi al momento è il nome da tirar fuori quando dovesse mai servire. Ecco, questa è un po' l'idea sulla quale vogliamo impostare questa nostra chiacchierata. Sì, dici bene, però si può fare prevenzione, con prevenzione posturale, oltre a quando ci sarà, magari quando uno ha un problema, ovviamente lì si tratta di curare, tra virgolette, un sintomo, di curare una patologia, facciamo l'esempio di uno sperone calcaneare, in alcuni casi si fanno i plantari con lo scarico del tallone, con lo scarico dello sperone, in base all'esame baropodometrico. Noi per la realizzazione del plantare ci basiamo, oltre alla prescrizione di uno specialista ovviamente, ci basiamo sull'esame baropodometrico e l'esame posturale, quindi andiamo ad analizzare il passo in fase statica, in fase quando una persona sta ferma, andiamo a vedere la pressione che esercita sull'appoggio plantare, e poi in fase dinamica, in modo di deambulare. Questo fa sì di correggere determinati atteggiamenti posturali sbagliati, che poi possono essere originati dal piede, oppure da altre zone della postura, e da definire in base a test posturali che eseguiamo successivamente. E quanto il problema è puramente causato dallo sperone, per questo facevo l'esempio, allora lì si realizza un plantare, che va differenziato in base ai materiali, in base al peso della persona, in base all'attività fisica, in base all'attività lavorativa, per esempio un operaio che usa una scarpa antinvortunistica, il materiale sarà diverso rispetto magari al materiale che utilizzeresti te nelle tue scarpe sostanzialmente. Uno per ammortizzare di più, proprio il peso della persona sull'appoggio plantare, e due anche dalla tipologia di scarpa diversa, e quindi viene creato un plantare basandoci non solo sulla patologia, ma anche tra virgolette sullo stile di vita e sulla corporazione della persona. È molto interessante perché poi oltretutto anche una stessa persona ha momenti della giornata diversi nei quali magari deve indossare delle calzature diverse in base a quello che deve fare. Facevi l'esempio dell'operaio, non sta sempre con le scarpe antinvortunistiche, per cui voi personalizzerete diversamente il tipo di plantare anche a seconda del tipo di calzatura, e anche del peso tutto sommato. Sì, del peso, della patologia, anche per esempio seguiamo un po' i diabetici, i diabetici diciamo hanno un piede a parte, tra virgolette, passami il termine, molto più complicato e molto più delicato. Lì si usano dei materiali totalmente differenti rispetto a uno sportivo sostanzialmente, rispetto anche a uno sperone calcaneare. Quindi l'elaborazione e la costruzione di un plantare è sempre una cosetta diciamo normale, con la classica solettina della sanitaria, quella ce l'abbiamo lo stesso, chi vuole la può utilizzare. Però l'utilizzo e la realizzazione di un ortesi plantare è un montaparte, tra virgolette. Ti faccio una domanda, alla quale sicuramente mi risponderai di sì, però vorrei capire anche come. Si risolvono veramente i problemi con un plantare, si riescono veramente a risolvere problemi anche importanti? Sì, almeno la casistica nostra 9 su 10 risolvono il problema. Ovviamente non è un farmaco. Certo, certo. Metti il plantare e passa subito il dolore. Ci vuole un periodo di adattamento al plantare, perché la struttura che ti dà il plantare sotto l'appoggio del piede deve essere percepito dalla postura, deve essere percepito dal nostro corpo e questo ha bisogno di un tempo. Un tempo di realizzazione proprio positivo poi, perché l'organismo reagisce a questa nuova forma di appoggio e va verso la soluzione. Esattamente, sì. Noi non per niente, quando consegniamo il plantare, dopo un mese, sia nei casi positivi, dove inizia a scomparire il dolore, magari, sia nei casi un pochino più complicati, riguardiamo il paziente a distanza di un mese da quando abbiamo consegnato il plantare. E poi, periodicamente, ogni 8-10 mesi, in base per far durare il plantare il più tempo possibile, perché come tutte le cose purtroppo si consumano, si usurano i materiali, la vita media di un plantare facendo così arriva a durare anche all'incirca due anni, due anni e mezzo, perché è ben diverso, diciamo, dalla solettina, uno guarda la solettina, però si induriscono anche i materiali, non sono più elastici come all'inizio, quindi lì andrebbe, tra virgolette, andrebbe rifatto. E voi fate un piano, probabilmente, di assistenza anche in questo, no? Sì, sì. Cioè, è importante che poi chi comincia a, diciamo, utilizzare un servizio come questo, da parte nostra... Tutti i controlli da parte nostra sono gratuiti, quindi dall'inizio chi fa l'ortesi plantare poi viene seguito nel tempo per i primi due anni, poi se uno decide di cambiare o magari provare in altro modo, non fa niente, però nei primi due anni vengono seguiti. E i controlli successivi sono sempre gratuiti, diciamo, nella costa iniziale del plantare. Questo è molto importante, è molto interessante, molto importante. E da qualche... va talmente bene, diciamo, che da qualche tempo avete deciso di aprire anche a Fano. Sì, da pochi mesi, diciamo, ad aprile, fino a aprile, il primo di maggio, abbiamo aperto anche un punto ventito a Fano. E a Fano abbiamo il classico negozio di sanitario-ortopedia, in più una parte dove eseguiamo appunto gli esami posturali, gli esami baropodometrici, dove è la cosiddetta sala prove, dove prendiamo le misure, non solo dei plantare, ma anche quando capitano, diciamo, i tutori, anche per le carrozzine su misura, perché ci occupiamo anche di quello, i cosiddetti sistemi posturali per i pazienti, diciamo, pochi, abbastanza gravi, diciamo, un complesso, diciamo, posturale per adattare la seduta in modo più fisiologico possibile, in modo da dare un... prevenire pieghe da decubito, prevenire, diciamo, posizioni errate nella posizione seduta su una carrozzina. Sì, perché anche in questo caso magari... Non parliamo proprio, non entriamo nel vingolo delle patologie, perché sono una marea, e poi lì si differenziano tantissimo, diciamo, i sistemi posturali da adottare. Parliamo un po' in generale... Sì, sì, ma poi quello che stavo dicendo era che magari si tende a non pensare che poi l'organismo subisce delle modifiche andando avanti, no? Si può prendere qualche chilo in più, ma si può anche perdere qualche chilo. Ci possono essere delle modifiche anche in chi a un certo punto della vita ha bisogno di un supporto, di un sostegno, e poi magari cambia e quel sostegno lì non è più adatto, per cui il vostro tipo di assistenza diventa fondamentale, un'assistenza costante. Sì, esatto, perché fino a una variazione di peso di 10 kg magari non cambia nulla, però quando abbiamo avuto pazienti, diciamo, che hanno perso anche 30 kg o l'hanno preso in 3 kg, lì cambia completamente sia il materiale sia l'appoggio del piede, quindi dovrebbe essere monitorato nel corso del tempo proprio per questo. E nel punto vendita di Fano voi ottimizzate il fatto di avere il laboratorio a Pesaro, per cui a Fano diciamo quanto è tutto quello, esatto, la produzione viene a Pesaro, per cui diciamo che è un po' una carta vincente anche nel punto vendita di Fano. Sì, facciamo qualche piccola modifica, abbiamo un piccolo laboratorio anche a Fano, però è solo per le modifiche, nel senso ti dà fastidio il plantare o ti dà fastidio la pelottina sulla carrozzina, la facciamo al momento lì sul posto, però per quanto riguarda la costruzione, per quanto riguarda la rifinitura, lo facciamo tutto in sede a Pesaro dove abbiamo i laboratori. Allora, mi viene una curiosità mentre ti ascoltavo, tu mi hai detto tre anni e mezzo fa, sei molto giovane, per cui comunque hai cominciato con questa attività, ma da dove ti viene questa cosa? È un'esperienza di famiglia, è una cosa che è arrivata in seguito a degli studi, come ti è nata questa idea? È arrivato in seguito a degli studi, i miei genitori erano completamente in campo diverso, io ho studiato a Roma, da Roma poi ho girato un po' varie officine ortopediche, perché con la laurea ovviamente ti dà una buona base, però non ti dà la giusta preparazione per aprire subito un'attività. Tecnico ortopedico, poi ho fatto vari studi di posturologia, ho studiato anche osteopatia, da quello insieme, continuando a studiare, ho iniziato anche a lavorare su varie strutture di aziende ortopediche, tra Roma, Bari, Brescia, qui nelle Marche, Civitanova, Osimo, quindi ogni settore, ogni azienda mi sono specializzato in vari settori di produzione. Io conosco i pesaresi, conosco i nostri telespettatori, so che in questo momento qualcuno si sta domandando sì ma a Pesaro cosa sei venuto a fare? Perché tutti questi giri e poi arrivi a Pesaro? Perché a Pesaro non c'era. Ottima idea, ottima idea. Hai fatto uno screening su tutto? Sì a Pesaro vengono tutti da fuori, i miei colleghi sono tutti da fuori, non c'è una produzione pesarese, tra virgolette. Certo, per cui è proprio una scelta proprio di città. Sì, Pesaro è bellissimo, quindi Pesaro, Fano, sono stupende come cittadino, quindi siamo trovati benissimo fin dall'inizio, quindi abbiamo sfruttato un po' la cosa, tra virgolette. Ma questo è un bel vanto per la nostra città, insomma, perché vuol dire che qualcuno ci sceglie... Tra tutte le città che abbiamo girato, io insieme a mia moglie, perché la decisione è stata da entrambe le parti, e come zona è fantastica, offre di tutto e si sta abbastanza bene. Noi ti ringraziamo, perché insomma è un complimento, ma devo dire che ne siamo tutti un po' convinti. Per primi noi di Rossini TV, che diamo tanto spazio a tutta la situazione, diciamo, della nostra provincia, della nostra città, attraverso programmi, anche come il recentissimo Green Tour, che fa vedere le meraviglie di tutti i nostri territori, insomma, attraverso ospitate che facciamo qua, con persone che raccontano le bellezze del nostro territorio. Per cui noi ne siamo convinti, però sentircelo anche dire da qualcuno che addirittura sceglie appunto senza vincoli e sceglie di venire qua. Sì, perché c'era uno spazio per aprire un'attività, ma poi ci si trova anche bene, insomma, è una cosa che ci riempie sicuramente. Non si può chiedere di più, diciamo. Non si può veramente, hai detto bene, non si può chiedere di più. Senti, allora, vediamo se abbiamo un po' parlato di tutto, perché abbiamo detto di questa produzione interna che è molto importante, di questa gamma estesa di prodotti, perché poi voi non avete un vincolo, un limite in questo ambito, in questo campo, no? Abbiamo tutte le aziende di ausilio, tutto quanto. Sul mercato, quindi non siamo vingolati da nessuna parte, da nessuna azienda, tra virgolette, quindi per noi, diciamo, non fa differenza usare una marca piuttosto di un'altra, tra virgolette. Ovviamente, conosciamo la qualità di una marca rispetto a un'altra e quello è un nostro consiglio che diamo. Un'altra cosa che facciamo è seguiamo un po' gli sportivi, seguo la squadra del rugby formiche di Pesaro e tutti i bambini a cui facciamo gli esami gratuiti per la prevenzione perché nel piede da bambino diciamo il piede piatto spesso si riscontra e scompenso posturale si riscontrano facilmente. Poi per salire un po' di livello diciamo anche insieme al dottor Benelli realizziamo i plantari per gli sportivi della VL della squadra di basket quindi svariamo un po' le varie classi anche sportive. Questo inserimento nella città ci sta anche questo è collaborare con le realtà che fanno emozionare di più per un verso o per l'altro i cuori sportivi dei nostri telespettatori dei nostri concittadini sono bello. Le formiche le seguiamo insieme al dottor Ricchiuti quindi abbiamo varie collaborazioni con varie figure che ci danno fiducia ma anche da parte degli specialisti degli ospedali abbiamo apprezzato molto la fiducia che ci è stata riscontrata. Certo guarda siamo quasi in chiusura mi viene da chiederti è stato difficile all'inizio hai avuto un momento nel quale ti sei domandato se era stata la scelta giusta oppure la città ha reagito subito bene e ti sei trovato subito comunque con la sensazione di aver fatto la scelta giusta? Sinceramente sì avevo avuto la sensazione di aver fatto la scelta giusta per tutte le cose positive della città per l'assenza della nostra struttura che abbiamo creato in provincia perché non è solo a Pesolo diciamo abbiamo pazienti anche di fuori di Urbino di diciamo zone limitrofe di Urbino quindi vengono anche da un po' lontanino se devo fare una critica non ce l'ho quindi è abbastanza positivo e nel campo vostro l'anno e mezzo appena trascorso di Covid che tipo di impatto ha? Beh ovviamente c'è stata una grossa limitazione in tutto e la difficoltà maggiore che abbiamo riscontrato ma a discapito diciamo soprattutto dei pazienti perché non chiudendo le visite specialistiche negli ovari ospedali ci sono state un po' di limitazioni quindi anche la base diciamo di una visita perché noi senza la visita specialistica ovviamente facciamo un po' fatica anche a indirizzare il paziente quando abbiamo una patologia e lì è stata a parte diciamo la diminuzione dei pazienti ovviamente dei numeri ma proprio la difficoltà di confrontarci con gli specialisti perché non non c'erano le visite non erano aperte le visite se non per casi gravi quindi è stato un po' un problema che tu torni prima possibile alla normalità allora questo spazio molto bello in piazza Redi il numero è 23-25 due belle vetrine tre quattro una bella scritta una bella insegna insomma non vi potete sbagliare e alla fine diciamolo un passaggio si può comunque fare anche se uno proprio al momento non ha bisogno un salto fatelo chiedete di Gianluigi Falcone vi offre un caffè chiedete di Gianluigi Falcone e dite ti ho visto in televisione e sono venuto a trovarti e vediamo quanto possono venire anche a Fano quindi anche a Fano esatto dimmi l'indirizzo di Fano via Malacodi 2 sarebbe vicino la scuola Corridoni vicino la caserma di Fano non si può sbagliare avete scelto sempre dei posti molto mirati e ben visibili e ben ritracciabili complimenti bene allora si conclude questa bella chiacchierata che abbiamo fatto con Gianluigi Falcone dell'ortopedia Falcone siamo convinti di avervi fatto conoscere una nuova realtà e un bel personaggio della nostra città acquisito ma ormai a tutti gli effetti della nostra città ti ringraziamo Gianluigi per essere stato con noi grazie mille a te e grazie a tutti i nostri telespettatori e l'appuntamento a una prossima puntata di Casa Rossini buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti